che dici robert forse era meglio che io non ci veniva dai parenti tuoi avvero ma no perché è che ognuno di noi ha un ricordo sbagliato dell'infanzia sai perché diciamo sempre che quella era l'età più bella che in realtà non ce lo ricordiamo più come che c'è guarda un po la festa campagnola guarda quella con gli occhiali non vedi quello con il cappello che articolo magari si è già fatto otto ore bravo così mi piace quando ridi me stai più simpatico ma robè che te frega delle tristezze lo sai qual è l'età più bella te lo dico io qual è è quello che uno c'ha giorno per giorno fino a qua hanno schiatto si capisce lo sai bruno io a rieti e anche a roma ho parecchi compagni conoscenti ma capisco che è più facile diventare amico di un estraneo che di una persona che magari conosci da molto tempo e allora da retta un estraneo come si chiama quella ragazza quella che abita nel palazzo di fronte a te valeria beh quando torno dalla villeggiatura fermala sta valeria parlace con valeria hai capito non fare il fesso se no poi te ritrovi all'età mia solo come un cane ciao ciao